Una guerra si può perdere con dignità e realtà, la resa e il tradimento bollano per secoli un popolo davanti al mondo, Junio Valerio Borghese, comandante decima flottiglia massa. Il combattimento è la luce, è la luce, è così la morte. E' così che vive il marito, nel profondo cuore, è solo un temore del nemico e dell'avversità, se ne fischia quel che sa che vincerà. E' un'importante missione temeraria da compiere, dal valore altamente strategico, per questo vi ho convocato, disse il comandante della decima flottiglia massa, Junio Valerio Borghese, al capitano di Vascello, Eugenio Massano. Voi avete a disposizione otto cariche di 100 kg di tritolo cesche d'una e con queste dovete far saltare per aria il porto di Nuova York. E' l'estate del 1942, gli USA sono già in guerra, la legge marina militare italiana pianifica un'ardita azione bellica, travolgente e terrificante al tempo stesso, fulgida e spettacolare, tempestiva per l'effetto sorpresa, imprevista ed imprevedibile, per certi versi non dissimile rispetto al piano d'attacco del Torri Gemelle del 2001. Si scelse il sommergibile che era destinato a portare questo attacco ed era il Leonardo da Vinci. Il 22 maggio del 1943, il sommergibile Leonardo da Vinci invia il suo ultimo segnale radio. Informa la base che il giorno seguente inizierà la navigazione occulta. Il battello è atteso entro una settimana alla base di Bordeaux, ma non vi arriverà mai. Il 23 maggio del 1943, il Leonardo da Vinci viene affondato dagli inglesi in Atlantico, nel Golfo di Biscaglia. E con lui, tutto il suo equipaggio. L'ultimo attacco subito nel territorio nazionale risale al 1814, quando gli inglesi arrivarono a Washington e bruciarono la Casa Bianca. Un attacco sul proprio territorio avrebbe provocato uno shock forte. Avrebbe avuto un impatto profondo sulla psicologia collettiva dell'opinione pubblica americana. Scatto, travolgo e vinco. Null'altro più che questa triplice espressione del battaglione fulmine della decima flottiglia Mas può raffigurare l'ardimento, l'onore e la fedeltà, ancorché l'impavida tenacia di un audace guerriero. Onore al comandante Junio Valerio Borghese. Presente! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS